Vado? Sì. Prego. Ciao a tutti. Questo è il nostro decimo giorno in Egitto. Dobbiamo dire che siamo stati molto contenti della nostra vacanza. Siamo stati prima a Fulcana, poi abbiamo visto il giorno all'Uso. Bello. Siamo davvero... Sì, abbiamo avuto una bella impressione dell'Egipto come paese e abbiamo sempre trovato delle guide molto preparate. Adesso l'ultimo stop era il Cairo e i piramidi ovviamente. Ed è bellissimo. L'Egipto è un po' straordinario per scoprire la storia, la cultura, lo sport. Sì, c'è un po' di tutto. Mare? Sì. Mare bellissimo. Pesci bellissimi. I paesaggi... Sì, è davvero un posto per vedere. E il popolo? Per vedere. Il popolo è molto accogliente, sempre disponibile per tutto. Molto gentile. E sono sempre stati molto carini con noi, molto accoglienti. E sono attenti che è tutto scuro e... Sì. Sì, è bellissimo. Ve lo consigliamo proprio. Allora, faccio una foto. Voi, anch'io. Ciao, ciao, ciao.